Ciao a tutti, vi chiedo solo un minuto del vostro tempo, perché dovete sapere quello che sta accadendo in Parlamento, perché riguarda le vostre tasche, i vostri soldi. Allora vi faccio una domanda molto semplice, chi è che controlla le vostre dichiarazioni di redditi? Chi è che vi può mandare un accertamento o una cartella esattoriale? Beh, semplice, è l'agenzia delle entrate. Ebbene, nell'agenzia delle entrate, nelle agenzie fiscali, cioè dogane e agenzie delle entrate, ci sono circa 800 dirigenti illegittimi, ex funzionari che non hanno vinto un concorso per entrare nella dirigenza, come prevede tra l'altro la Costituzione, ma sono stati nominati. Così i partiti hanno creato un sistema nel tempo di clientele e di favoritismi attraverso il fisco. Nel 2015 però la Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità di queste nomine e l'obbligo di fare dei concorsi pubblici. Questo però è ovviamente un problema per i partiti che ci governano e ci hanno governato, perché perdono in questo modo il loro potere di ricatto su noi cittadini. E non è finita qui. Grazie al Movimento 5 Stelle si è scoperto che nelle agenzie fiscali ci sono 340 indagati per vari reati, principalmente contro il patrimonio. Sto parlando di furto, rapine, estorsioni, corruzione. Quindi abbiamo dirigenti nelle agenzie delle entrate nominati dai partiti e indagati per gravi reati come la corruzione. E poi ci chiediamo perché sono sempre i soliti a pagare le tasse, i soliti cittadini a pagare le tasse. Quelli che magari fanno fatica a arrivare a fine del mese. Ora, cosa sta facendo il governo? Due cose, una peggiore dell'altra. Con un decreto interministeriale firmato da Paduan e dalla Madia scoperto dal Movimento 5 Stelle, si consente di aprire i nuovi concorsi imposti dalla Corte Costituzionale per la dirigenza di questi enti strategici a coloro che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento e a dare un punteggio maggiore a chi è già in carica magari proprio perché è stato nominato dai partiti. Uno scandalo, una schifezza assoluta. Ma questa vergogna non sarebbe legittima nella pubblica amministrazione? E allora ecco il secondo passaggio, la seconda porcata che stanno approvando in questi giorni. Al Senato stanno approvando la riforma degli enti fiscali. Con questa riforma i partiti sostanzialmente vogliono tirar fuori l'agenzia dalle entrate e delle dogane dal perimetro della pubblica amministrazione, che oggi li obbligherebbe a reclutare la dirigenza con concorsi fatti per bene. Allora noi abbiamo dirigenti nominati dai partiti e indagati o condannati che stanno per essere salvati dal governo. Cercheremo di bloccare questo schifo ma vi chiediamo una mano, condividete queste informazioni, fate sentire la vostra voce. Altrimenti avremo un fisco ancora nei prossimi anni che anziché punire i veri evasori continuerà a tartassare i normali cittadini e a insabbiare le cartelle esattoriali degli amici, magari di quelli che gli finanziano proprio la campagna elettorale. Aiutateci a diffondere l'informazione.